Posso scendere qui? Sta soffrendo, sai? Tanto. È bello che ti abbia rivisto. Credevo che non sarei mai più tornata. Chiama pure se ti serve qualcosa. Carta. 19, chiedi carta. Ma lo sai come si gioca? Dunque, con 19 tu devi stare, non ti entrerà mai un 2 o un asso. Cristo, che cazzo ci fai tu qui? Che bella accoglienza.